Tu scendi dalle stelle, ore delle... Che Natale, eh? Capodanno, Pasqua, Ferragosto... Epifania! So vent'anni che siamo murati vivi qui dentro a fai cammerieri. Una prigione, una prigione. Una prigione? È una prigione. Non si sogna nemmeno più. E chi sogna più? Invece a me stanotte mi è successa una cosa meravigliosa. Che a te è successo? Ho sognato. Che hai fatto? Ho sognato. Sì? Sì. Con qua la faccia. Con qua la faccia si sogna pure. Ma che sogna? Ho sognato. Ho sognato. E che te sei sognato? Stavo su una giostra. Sai una di quelle giostre di una volta con i cavallucci di legno tutti i specchietti? So salito su un cavalluccio, davanti c'era una bionda con i capelli al vento. Faccio per acchiapparla, ma che acchiappi? La giostra girava. Giravo, giravo, giravo tutta la notte. La felicità. Beh adesso mo' sembra l'ha fatta apposta, ma stanotte cosa sa che mi è successo? Che te è successo? Ho sognato pure io. Ma mo' sognato io, sogni pure tu. Non ce credi? Io non te lo ricordo, che me frega. Che hai sognato? Non te lo dico. Ma dai, dai. Noni, noni. Dai. Vuoi sapere? Eh. Mettete assieme. Dunque tu sai che io sono single, vivo solo. Stavo per casa, ci abbattavo per casa. Stavo per me a letto, sento bussare la porta. Va da prima. Chi era? Chi era? Sharon Stone. No. Sharon Stone. Dice, senti il maregano, io sono pazzemente innamorata di lei, vorrei fare l'amore con lei. Con che? Con me, con me, proprio con me. Ma signora, come prenda un te? No, no, subito, andiamo. Spogliate, buttate sul letto e mi dice, cominciamo. Una volta, due volte, tre volte, quattro volte, di sopra, di sotto, di in terzo, da tutte le parti. Niente faccio più. Ma due, tre, quattro ore, non lo so. Poi lei va via, l'accompagna, si fa per dire, barcollo verso la porta. Esce più, in un'uscita mi fa complimenti. A te? A me mi ha fatto complimenti, Sharon Stone a me mi ha detto complimenti. Se non è andato, io barco là, sono andato a letto, non dormo per una settimana, invece ribussano alla porta, indovina chi era? E chi era? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Ma non quella di oggi, quella di prima. No! La cosa, mi ha fatto, dice, je voudrais faire l'amour avec toi. Eh? Toi, moi, moi. Ma dico, provamce, io ho detto perché, provamce in francese, perché, ero stanco, capito, però io ci l'ho messa tutta, insomma, lei lì, una botta io l'ho data, ma poi è morto completamente, lei è andata alla porta, io l'ho seguita, arrivederci, 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 il francese, complimò, mi ha detto. Complimò a toi? A moi, a me, sì, a me, a me, complesso. E se ne è andato, io stavo addormentato sulla porta, a ribussano alla porta, e lui una chi era? E chi era? Monica Bellucci. No! Con una pelliccia, ha fatto così, tutta nuda. Nuda? Nuda, davanti a me, mi ha detto fammi tua, andiamo da là, e poi dopo, poi ho fatto di coro al signore, io, io ne la faccio più, tutta la notte così, dico, c'ho nemmeno un amico che mi dà una mano, ecco. Ma potevi telefonare? E t'ho telefonato, stavi sulla giostra, eh, giravo, giravo, eh, e io gli dao, gli dao, e tu giravi, giravi, eh, tu non devi girare, eh.